Ciao, sono Alice. Da piccolo ho sempre sognato di essere Rey Skywalker. Adesso, da Eurospin, puoi collezionare i personaggi di Star Wars, in omaggio con 30 euro di spesa. Vediamoli tutti! Il 20 febbraio, il maestro Yoda. Chewbacca, il mio preferito, uscirà il 27 febbraio. Il 6 marzo sarà la volta del cattivo Kylo Ren. Io, cioè Rey, uscirà il 13 marzo. Il simpatico robottino, il 20 marzo. Infine, il perfido Darth Fenel, il 27 marzo. Il 27 marzo. Grazie a tutti